Musica Musica Molte volte mi sono chiesto che cosa avrebbe potuto dire, che cosa avrebbe potuto scrivere. Lo scrittore Davide Maria Turoldo, pensando a questo momento così delicato, a questa pandemia, a questo momento così imprevedibile, forse avrebbe messo in evidenza che si tratta della rabbia, dell'ira, della natura contro l'uomo che l'ha violata in molti modi, soprattutto con il consumismo. E allora mi è venuto in mente un episodio accaduto molti anni fa, quando ho conosciuto il celebre scrittore, autore di quell'opera, Gli Ultimi, della quale abbiamo parlato anche recentemente a Udine TV. E mi è venuto in mente un episodio accaduto proprio accanto alla Chiesa delle Grazie in Piazza Primo Maggio a Udine, dove io l'ho incontrato per intervistarlo. Un'intervista nell'ambito di un'attività che svolgevo quella volta nel quadro di un giornale della Chiandetti Editore. Lo intervistai, vogli parlare con lui di molte cose, naturalmente mi concentrai soprattutto sugli ultimi, anche se il film e l'opera di Turoldo era già storicizzata, perché erano gli anni Ottanta, quindi era già accaduto vent'anni prima. E parlai di quella figura che abbiamo un po' in tanti davanti agli occhi di questo bambino che si ribella contro lo spaventapasseri e lo colpisce con i sassi, quasi a voler demolire una parte di se stesso all'interno della quale non voleva più sentirsi. Oppure quell'altra scena in cui il bambino va a bussare alla porta del suo amico, la famiglia più ricca, stanno mangiando la polenta e non gli offrono niente, quasi quasi lo cacciano. E parlando di quelle immagini abbiamo ricostruito un po' il Friuli povero degli anni Trenta, di questo periodo dell'età del fascismo, che era un periodo di grandissima miseria e demarginazione per i Friuli, soprattutto in quel risvolto, in quel piccolo pezzo di terra del Codroipese, soprattutto lì nella zona di Sedegliano, di Coderno, dove Turoldo viveva la sua infanzia. E abbiamo parlato di quella miseria e di quel bisogno di riscatto sociale che sentivano tutti i contadini e tutti gli abitanti del Friuli in quel periodo storico. E allora ecco che parliamo anche di come il tempo storico era diventato estremamente diverso. Erano gli anni Ottanta e nella piazza Primo Maggio scorrevano delle macchine molto importanti, molto belle. E lui guardando queste vetture che scorrevano nella piazza, scendendo quel breve declivio che c'è tra le Grazie e la piazza, il primo maggio diceva c'è troppa ricchezza, c'è troppo benessere, c'è troppo spreco. E questa civiltà del rumore e dello spreco lo infastidiva. E lui mentre mi guardava e mentre parlava con me voleva far capire a me che ero un giovane trentenne come non si sarebbe potuto andare avanti così, secondo il suo punto di vista. E questo lo scriveva anche in varie pubblicazioni e lo sottolineava anche in alcune predicazioni. E coinvolgeva anche delle figure intellettuali del Friuli che di lui hanno parlato in tempi, in quegli anni e anche in tempi più recenti. Faccio l'esempio di Claudio Mario Feruglio, un pittore che ha voluto raccontare e ispirarsi alla lirica di Turoldo. Un poeta, tra parentesi, del quale un altro anno dovremo celebrare il trentennale della morte perché lui è venuto o meno nel 1992. Quindi io penso che il mondo intellettuale si prepari già a raccontare, a ricordare se celebrare è una parola troppo forte, una voce verbale che forse non piacerebbe neanche a Davide e Maria Turoldo, per comunque raccontare e ricordare questo intellettuale. E Claudio Mario Feruglio, dicevo, si ispira spesso a Turoldo e ai silenzi che Turoldo sente come urgenza dell'anima. L'anima dell'uomo ha bisogno di silenzi, l'anima dell'uomo ha bisogno di riflettere sulle cose importanti della vita. Il consumismo è rumoroso ed è quasi ossessivo nel suo suono continuativo. E allora ecco che Turoldo richiama al silenzio e in questo senso è abbastanza opportuno richiamarci all'opera di Claudio Mario Feruglio che sottolinea quegli stessi silenzi come urgenza e come bisogno di ricostruire l'animo umano e restituirlo a una sua dimensione più interiore. Come Vito Sutto anch'io nutro qualche ricordo relativo al padre David Maria Turoldo, soprattutto nei primi anni 60 quando io frequentavo il ginnasio e il frate invece era ospitato presso il convento di Santa Maria delle Grazie separato dal liceo classico e solamente dalla Roggia. E mi ricordo che talvolta lui veniva fuori mentre si usciva da scuola e veniva a parlare con noi e mi ricordo che una volta si è rivolto proprio a me chiedendo ma come mai non vieni alla rappresentazione teatrale che io faccio guarda che il teatro è importante e cerca di venire. Io purtroppo allora abitavo fuori Udine, in un paese fuori Udine e non ho accolsi questo invito e mi ricordo sempre di questa mancata occasione diciamo così. Comunque sempre parlando di questo sito adesso cinema c'è un altro film capostipite e importante per la storia del cinema in regione che è Maria Zeff che è un film sempre ambientato nelle campagne, nelle zone rurali della regione in questo caso in montagna veramente e presenta una storia questa volta non solo di miseria e di problemi sociali ma presenta una storia scabrosa nel senso che una famiglia, una madre dopo che era molto il marito una madre con due figlie e vive una vita grama insieme allo zio Barbe Zeff il quale è un uomo diciamo un po' violento e comunque è un sopraffattore è uno che non guarda in faccia a nessuno anche se ha momenti di bontà diciamo ma è la miseria, è la vita grama che lo porta a comportarsi in un certo modo infatti prima approfittava della madre poi aveva tentato di approfittare e ci era riuscito anche con la figlia a 15enne e tutto faceva credere che aspettava il momento opportuno anche per la bambina più piccola questo perché si ubriacava e nei fumi del vino non ragionava più lui stesso lo ammetteva ma dopo aver commesso il fatto però e diciamo che la ragazza 15enne dopo la morte della madre morta di Stenti prese coraggio e in un momento, una sera quando il Barbe Zeff era piegato su se stesso e dormiva ubriaco lo uccide con una mannaia questo film è tratto da un libro, da un libro di Paola Drigo la vicenda si svolge nelle montagne di forno di sopra più o meno insomma comunque in un ambiente alpino e le due figlie poi insieme alla madre le vediamo fin dall'inizio nel film che vanno a vendere con fatica per la campagna, per la piana friulana vanno a vendere delle stoviglie di legno non riescono a vendere molto, hanno molte difficoltà anche perché la gente risponde sempre loro ma più che di stoviglie abbiamo bisogno di pane noi veramente e quindi la vita è veramente difficile allora siamo i primi del novecento ecco questo film è considerato un po' come gli ultimi una storia più che di ultimi divinti diciamo anche se rispetto alla vicenda degli ultimi di padre Turoldo qui le protagoniste sono una donna sono due ragazze e il protagonista è anche il Maria Zeff però diciamo quelli che prendono in mano la situazione che risolvono il problema ma è appunto è la ragazza la quale ha il coraggio di ribellarsi insomma grazie a tutti